Il programma ha funzionato correttamente. Nel 1994 l'OMSAV, già ILVA, ITAL SIDER, TERNI, BOKUMER VARAIN, SIDER URGICA, TARDI E BENEK, chiude per sempre i battenti. La simbiosi tra lavoratori e città è spezzata. Con las mentes de descansar. Con las mentes de descansar. La simbiosi tra lavoratori e città è tutta. Grazie a tutti